Da domani riaprirà al traffico la Via Red Italia, che causa lavori doveva rimanere chiusa al traffico sino alle ore 17 di mercoledì 18 gennaio. Dunque, in tempi brevi, i lavori sono stati svolti nella giornata odierna e da domani tutto ritornerà alla normale viabilità. Abbiamo ascoltato l'assessore in merito Ivan Rando. Sono stato sino a mezz'ora fa sui luoghi, ho verificato che la ditta potesse completare il lavoro entro oggi in maniera da limitare il disagio ai cittadini, visto che l'unica alternativa al momento possibile era quella di deviare il flusso veicolare su Via Berengaro-Caitani con le note problematiche vista la tipologia di strada. Pertanto è ufficiale che domani mattina riapriamo il transito veicolare a tutti i cittadini in maniera tale da non avere più, almeno per il momento, mi auguro ulteriori problemi.